Ma cosa fai? Vai dentro di testa. A me ci penso io, scusa eh. Ecco, per cortesia. Ma vai, ma vieni qua. Stai fermo. Ma io non è che ti voglio sposare, scusa. Ma se sei già sposato, per carità. Ma cosa c'entra? Ma io dicevo che... No, perché i matrimoni sono molto divertenti. Guarda, guarda che roba succede. Guarda.